Prima vittoria per il nuovo campionato di prima categoria Girone C per il Borgia del Presidente Lapiana. Un secco 4-1 contro un Philadelphia, Cap apparso, squadra incompleta e ancora con molte lacune dal punto di vista tecnico. Il Borgia invece del nuovo tecnico Cabiddu ha dimostrato di essere quasi pronto per la nuova stagione, giocando un primo tempo di buona levatura, pur dovendo lamentare l'infortunio di uno dei suoi giocatori più importanti, Saverio Pilò, che si è fatto male al polpaccio della gamba sinistra. Comunque dicevamo un 4-1 importante che recupera la sconfitta di domenica scorsa a Capovaticano, quella 3-1 dove peraltro la squadra aveva giocato anche bene, però poi era uscita sconfitta. E adesso questi primi tre punti del nuovo campionato, anche in virtù della bellissima prestazione del suo bomber, come sempre fuori classe, Velio Passafaro, che con la sua tripletta si è portato il pallone a casa e ha confermato ancora una volta di essere giocatore davvero di livello superiore e di campionati di altro lignaggio, diciamo, della prima categoria. I gol sono venuti al ventesimo del primo tempo con un bel tocco di esterno sull'uscita del portiere Baldè della Philadelphia Cup, poi al venticinquesimo un calcio di rigore assegnato dall'arbitro il signor Camposano di Crotone per un fallo su Narda, un fallo abbastanza netto, appena entrato in aria il giovane Terzino è stato messo a terra e possa fare un affatto altro che insaccare alla spalla sempre del portiere del Philadelphia Cup. Poi il terzo gol di Formisano al trentacinquesimo con una bellissima incursione dalla parte sinistra del campo, una palla rimessa al centro e Formisano è stato lesto a mettere alle spalle del portiere ospite. Nel secondo tempo poi il Borgio è entrato un pochettino deconcentrato, si è un pochettino svegliato il Philadelphia, ha cercato di giustrare, non mostrando molta pericolosità per il portiere Torchia, però al ventesimo è riuscito ad accorciare le distanze, anche in questo caso con un calcio di rigore, anche questo sacrosanto, per la squadra ospite con De Santo che è riuscito ad insaccare per il 3-1. Ma ci pensava ancora una volta il bomber Passafaro che al trentacinquesimo chiudeva i conti con un bel gol tutto personale, parte dalla sinistra, si accentra e mette alle spalle del portiere ospite. Quindi 4-1 importante che in prospettive buone per il Borgio, mercoledì si giocherà il ritorno di Coppa Calabria a Badolato contro il Badolato, vittoria dei Borgesi all'andata per 2-0. E vedremo come continuerà questa stagione nella speranza che questo benedetto coronavirus non possa portare ancora ulteriori danni, visto che per esempio alcune partite sono state rinviate, quindi quella di Chiaravalla in particolare e qualche altra nei campionati superiori. Speriamo bene per il futuro. Grazie a tutti.